Ma in Riviera si rimorchia? Sì Ah vediamo stasera Stasera si vedrà Sono a Milano Marittima E questo è uno stabilimento balneare molto frequentato dai ragazzi che vengono qua da tutta Italia per fare l'aperitivo in spiaggia E' sabato 4 agosto e si balla sui lettini a ritmo di musica L'atmosfera è elettrizzante La giornata è mare Sì Piaggia Sole E poi gli amici Che dicono facciamo una bella brocca tutti insieme Come funziona l'aperitivo? Si beve Tanta figa E poi? Un bagnetto Si balla Cosa ti aspetti da queste vacanze? Divertimento! Gli aperitivi in spiaggia cosa vuol dire? Ti piace? Bellissimo il rimorchio Ma si rimorchia in Riviera? Tantissimo Il miglior posto Venite a Riviera No li stai facendo un'intervista Aperitivo Torna a casa Docetta E si va a mangiare Semplicemente E si beve Si spiga però E si beve E si beve Siamo qui per l'addio al nobilato di mia sorella Super weekend a Milano Marittima Aguri Come mai la Riviera Romagnola? Perché dove c'è più divertimento e bella gente Sì 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 Anche perché sono ormai dieci anni che veniamo qua Perché a Ferragosto noi veniamo sempre in Riviera Oggi è Ferragosto Oggi è Ferragosto Ovviamente 10 giorni in anticipo Ma sì Ma c'è sempre giorni per festeggiare in anticipo Fantastico Fantastico Siamo venuti dalla Toscana a Pozzo Ci hanno consigliato Il posto top dell'Italia E domani è Toscana Della Toscana Quali sono gli approcci in Riviera? Come ci provano? Veniamo dalle Marche Considera E sono molto diversi Qua quantomeno ti danno da dire Ci si diverte anche Viamo Cioè come sono gli approcci? Passo la parola a lei Vai vai Allora L'approccio dei ragazzi L'approccio L'approccio è molto buono Anche perché Noi venendo dalle Marche Il Romagnolo è molto più aperto su tutto Per cui Abbiamo Hanno un'altra mentalità qua E' qua in vacanza? Milano Marittima Sì 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 Come mai avete scelto la Riviera? Il semplice motivo è che c'è più divertimento Ci si diverte Il mare non è un gran che Però come vita Non c'ha nulla a che vedere Con tutto il resto dell'Italia Come mai avete scelto questo posto Per fare l'aperitivo? Eh perché sta la gnocca Quindi ragazze Si va ragazze qua Alco le ragazze E via Ok Viva la fega Siete qua in vacanza? Sì Per il mio compleanno 10 euro Un cocktail E sei sobrio Sei tranquillo Ne ho due Sei a posto Aperitivo in spiaggia Come mai? Perché penso che sia uno dei momenti più belli Da condividere con i propri amici Soprattutto con le persone a cui si vuole bene Quindi gli amici Quindi sei in compagnia con gli amici Ti fai la Sono in compagnia con gli amici Mi sto divertendo Faccio le piavere in spiaggia Sei la sposa? Sì Sono io Ok Al dio il nubilato allora Esatto Come mai avete scelto la Milano Marittima alla Riviera? Eh non lo so di chiedere alle ragazze Perché è stata tutta una sorpresa Stamattina sono venuta a svegliarmi alle due e mezza Sì E mi hanno portato qua Quindi la scelta è stata loro Una giornata intensa allora Sì sì Però hanno azzeccato la scelta Mi piace Perché Milano Marittima? Eh una bella mieta Giovani Divertimento Aferitivi in spiaggia? Divertimento Divertimento Vacanza Siete qua in vacanza allora? Certo Come tutti gli altri penso immagino Ho deciso tutto Quindi sei in balia delle amiche? Sì Vacanza Vacanza in Riviera Romagnola Non abbiamo programmi Però weekend di fuoco davvero Weekend di fuoco Weekend impegnativo Sì sì Scende la sera Si continua a ballare E i ragazzi si preparano a vivere la lunga notte della Riviera Romagnola Che li porterà alla scoperta di nuove emozioni Sì 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 Allora Sì sì Grazie a tutti.